ben tornati qua curno si è il secondo episodio di non so come chiamarlo mi allena il tanke dennis perché signori eccolo qua il nostro german è tornato però in struttura mister tra poco iniziamo il corso degli allenatori quindi attenzione attenzione che torniamo a questo rettangolo raga cazzo allena detto questo ragazzi come nel precedente episodio abbiamo junior junior julian dennis e il nostro dile che appunto portiere fisso in questa questa serie grande bentornato bentornati ragazzi è un piacere oggi ripetiamo un po quello che è successo l'altra volta vediamo un po però una cosa con magari più sfida chiamiamola master class di tiri contro il piccolo german poi se vuoi partecipare che tu in una sfida fa la pure nessuna ci sono detto questo partiamo la prima sfida naturalmente ragazzi questo è un allenamento un po allenamento per attaccanti generalmente per chi vuole giocare a calcio cioè non è soltanto sfida di youtube perciò ragazzi siete interessati al calcio generale ascoltatelo perché vi invito molto e lasciate un like iscrivetevi al canale e andiamo alla sfida ragazzi tiro torno tiro torno tiro senza fermarsi abbiamo un tempo si penso tantissimo un minuto tanto la sfida è il più velocemente possibile ma chi fa più e chi fa più gol il più velocemente possibile mettiamo l'ultimo fisico questa è pronto adesso non trovo mangi fermi fermi guardate quante magliette guardate la carta tutto imbustate qual è cosa mi ha mandato signori la maglietta di memphis depay e sì signore signori che spettacolo oro come splende sotto il sole guardate ricamata fantastico signori dell'olanda sempre questo grazie a fc maglia e tutte queste magliette potete trovarle sotto nel primo commento con il codice sconto ragnar signori al video allora siamo sul primo tiro e giulian si parte attenzione nooo fuori di là aspetta no no devi fare questo tiro ah ok ok questo è l'esercizio quanti gol fa l'otto farà tre vai 1 gore indietro vai 2 gore indietro farò dal portiere allora cosa non è andato cosa non è andato mal posizionato quel corpo malissimo e troppa frenesia il calcio io dico che fa 5 avevo carico quanti secondo me 5 anche o 4 5 4 carico e già ho fallito calma respira bravo ecco e l'ultimo questo controllato ecco non perdi la testa vediamo se arrivo in porta attenzione attenzione si presenta già adesso poi sono due di record devo dire una cosa che ho fatto tre ore di pari però va bene questa è bella quanti ne fa papà 4 4 ma io do più luce al tank e secondo me anche su pressione portiere però sarà carico adesso sicuro ma io rimango anche io rimango su 5 dai faccio anche io 5 vai e devi rimanere lucido nel momento in cui sbaglio devi rimanere lucido nel momento in cui sbaglio bella 2 e record 3 tra noi a quattro gol a palone gol attenzione 5 gol ragazzi alla 100 tira prima è andata è l'unico giocatore non ricordo ancora che ha fatto fine ai 50 tiri tutti cinque volte che facciamo ma stello stesso altro tipo di esercizi possiamo fare di sfida bene prima la vita al tank la prima e possiamo fare il tocco in tiro l'importante non devi calciare fuori da qua dentro ok quindi dentro dentro qua una cosa importante che bisogna dire che sia la tecnica del passaggio e la tecnica del controllo per lasciarlo qua dentro la prima parte german junior poi siamo al destro e questa grande intesa torna corsetta no corsetta vai 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 di prima no attraversano le gol questa è la frase sacro santo 2 dai 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 dentro vale questo va dentro il passaggio era forte si va la palla dentro non vale guarda io piuttosto che farla entrare la tiro male piuttosto ma la tocco prima della linea perché se mi metti caso che mi va dentro vale piuttosto che farla scorrere dentro vedi io a questo caso è però fuori magari dentro la linea no vale ok fuori va bene perfetto perfetto che vuol però che questo che la golo e questo è l'ultimo dovrebbe un fatto no noto pallone a testa tanto vai 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 poi poi facciamo vedere come in realtà anche una volta lo fa 40 volte io preferisco una cosa destro e sinistro quindi calcerò sia di destro che di sinistro che di sinistro bravo di qua bravo di così due su due di qua no badouma di sinistro bravo di sinistro bravo di quara la fuck via poi tache vai tache l'età non conta vai cava i tache due voglio mettere un po più ok un po più larga attenzione 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 vai tache non è la stanchezza devi farcela guarda qua questa è la vista da mo' mancano tre come viene questa è una spiazzata attenzione no 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 così no è male doppio questo è male doppio signori com'è tornare affiato sul campo no no voglio più al tank gli ho detto facciamo una sfida bella al partito fa no basta basta è andata lì e adesso gli è venuto in mente un gioco che gli piaceva tanto e li facevano fare adesso vediamo capiamo vai sei mancino sì per ora di visto palla dentro dentro la mezzaluna non può andare fuori né dentro l'aria quindi dentro la linea puoi calciare quanti tocchi controllo la palla si può fermare bella destra così ok questa va leva va leva vai no fuori eliminato attenzione ok 5 palloni devi concentrarti ce la puoi fare con la maglia di leo si attenzione da fermo ragazzi da fermo 50 per cento dei gol per ora stop attenzione 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 ma il gol è incredibile guarda uno guarda questo questo è semplice no ma il gol? no bello 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 stava uscendo il proprio posto a calciare ok perché poteva entrare 5 no? 5 nooo attenzione attenzione ancora no se entrava te la davo giuro se entrava te la davo buono puolta bravo attenzione attenzione no ma si è assurdo? siamo a una sfida a testa con il che abbiamo vinto la rigore a testa spareggio ragazzi e perché giustamente qualcuno vuole vincere ricordatevi che se vi è piaciuto lo stile di video lasciare like signore seguite il canale e poi ragazzi se volete rinvitare il tank scrivetelo nei commenti e allenati di allenati di cazzo allenati giulia parte lui stoppa a buona il tank sente il peso anche lui di questa sfida respira anche parte lui lo sapevo questi cazzo di rigori me li ricordo ancora me li ricordo ancora questi dico di qua ho detto 100% lo faccio tiro c'entra una botta palo solo a te però adesso deve sbagliare pure lui perché sennò vince attento è troppo sicuro anzi manici in fianchi german guarda il portiere questa è quella che dovevi fare tu sai che lo sapevo io lo sapevo no non ne sbagli due cazzo non ne sbaglio due cazzo ancora ancora io so già come la tira questa per forza come deve tirarla signori con questa cazzo di caratteristiche di rigori a golf per capito possiamo chiamarlo vince lui signori una pronta anche ho dimostrato che anche un diore può sanguinare una sfida l'ho vinta anche lui l'ha vinta anche tu fai una rincorsa sul rigore bloccandoti conviene non conviene germano allora si continua lui guardando lui è l'ultimo prende il palo però l'ha beh che magari possa prenderla un po male certo detto questo ragazzi ringrazio il nostro dile comunque oggi hai fatto delle grandi parate oggi hai fatto delle grandi parate grazie mille veramente oggi si è sbloccato si è caricato abbiamo il nostro junior tanke dennis è tempo di ritornare come si chiama piccolo tanke il giovane tanke il piccolo o lui no giovane tanke come si dice il giovane tanke 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 oh ma tu sei il più grande dei fratelli no il mezzano detto questo ragazzi ringrazio di tutti qua presenti se vi piaciuto il video ditemelo lo riparremo magari adesso cerchiamo di invitare qualcuno oltre che te magari qualcun altro professionista a fare la sfida insieme vediamo uno e l'altro vediamo che cosa tiriamo fuori e vediamo un pochino comunque quasi assieme le german sempre davvero disponibili ti ringrazio davvero tanto ringrazio davvero tanto ragazzi grazie nino tanke grazie di le signori ci vediamo la prossima statemi bene